Ben ritrovati dalla redazione di Flores Multimedia e in studio Cesare Martignan. Con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze chiusa una corsia di marce in entrambe le direzioni per la volita, San Casciano e Impluneta. A Firenze per la volita, San Casciano e Impluneta. A Firenze per la volita, Publiacqua, Disagi per modifica alla circolazione in Viale Matteotti e nel Viale Lavagnini, Angolo Viale Strozzi. Interventi di manutenzione programmata sul viadotto Marco Polo in zona Firenze Sud, Varlungo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!